Buonasera a tutti, è quasi una tavola rotonda questa. Però io mi consolo dicendo che vedo delle facce nuove e questo per noi è molto importante. Soprattutto vedo delle facce con un'età media decisamente più bassa di quella che di solito vediamo nel Salone Bolognini. Quindi, come dico, quando vedo queste facce nuove, dico venite, tornate, affezionatevi a questa sala. Direi che è una sala che vale la pena di essere visitata più di una volta e quindi saremo molto contenti se vi ritroveremo ancora qui ad ascoltare le cose che facciamo. Stasera, avete visto il titolo, devo dare una spiegazione sul titolo che si chiama Giovani in Movimento. Il titolo è la citazione del titolo di un libro, di un piccolo libro che fu curato e fatto qualche anno fa da Don Gianni Catti, Monsignor Catti, Giovanni, tanti nomi aveva. Un personaggio che, per l'azione cattolica e per gli scout, ha avuto un'importanza molto grande. È stato un personaggio, chi lo ha definito, lo ha definito con questa frase, lui era sempre due passi dietro a te, ma in realtà era due passi davanti a te. E questo era Don Gianni, quindi questo per ricordarlo. L'altra cosa che volevo dirvi come saluto iniziale è che noi qui stasera abbiamo chiamato tre associazioni cattoliche. Il nostro intento è di esaminare, vedere qual è l'offerta educativa per le giovani generazioni, per le generazioni dai 15 anni in avanti. Abbiamo qui tre associazioni cattoliche, però non abbiamo la pretesa di avere qui tutta l'offerta educativa che c'è in giro per i giovani. Certamente queste sono tre associazioni molto rappresentative, che hanno un grosso significato e anche, adesso poi sentiremo, un grosso seguito. Ma ce ne sono altre che noi qui non abbiamo, per dirne una, tra tutte, una categoria, diciamo, le società sportive. Le società sportive che veicolano, richiamano tanti ragazzi e che forse potrebbero, dovrebbero essere un po' più educative di quello che sono. Veramente frequentando campetti in cui giocano i ragazzi ho visto che non sono tanto i ragazzi a aver bisogno di essere educati, quanto i loro genitori. Ma questo è un discorso un pochino più complicato. Ecco, questa è la sera, adesso passo la parola a Mattia Cecchini che è noto, direi, in città come giornalista e che ci presenterà i relatori e poi coordinerà, modererà tutta la serata. Grazie e buona serata. Bene, grazie. Buonasera, effettivamente sì, mi chiamo Mattia Cecchini, sono un giornalista, lavoro per un'agenzia di stampa e lo dico per una ragione che spiego tra un istante, nel senso che mi occupo di tante cose, della cronaca di questa città, di questa regione, ma non solo, e mi occupo anche di giovani. Cioè, nella mia quotidianità mi trovo a dover scegliere quali storie raccontare o non raccontare dei giovani. Quindi qui c'è già un primo aspetto dell'importanza di questo incontro, perché quello che sentiremo stasera va un po' oltre quello che siamo abituati tutti, per colpa o per merito, magari anche di chi fa il mio mestiere, a sentire sui giovani. Perché di solito dei giovani non si parla tanto e più spesso e più facilmente è facile sentirne parlare in situazioni, diciamo così, estreme, per non dire solo negative. Ma questa è un'altra storia. Noi vogliamo provare a parlare di altre storie questa sera. E quindi vi vado a presentare le persone che sono al tavolo qui con me, che sono, partendo dalla mia sinistra estrema, Giovanni Raccichini, che è il responsabile di Gioventù Studentesca, benvenuto e grazie, Irene Di Pietro, che è qui come responsabile dell'associazione delle guide degli scout cattolici italiani, Daniela Gesci, che è attiva qui a Bologna, e poi la coppia alla mia destra, che insieme è rappresentazione cattolica, Anastasia Sasdelli e Stefano Baldecchi. Allora, con loro proviamo a fare un ragionamento. Io mi sono stato facilmente introdotto da Monsignor Giovanni Catti, che era un maestro di raccontare storie. Lui usava anche questa tecnica educativa, che è una tecnica, quindi stasera proveremo anche a parlare di proposta. Allora partiamo da qui. La prima domanda che vorrei rivolgere alle persone che sono qui al tavolo è questa. Detto che, per chi frequenta i giovani, sentire parlare di storia oggi ha un immediato rimando a una loro modalità comunicativa. Io vorrei chiedere ai rappresentanti di parlarci del loro sguardo, di quello che loro vedono oggi, sui ragazzi che gli sono affidati, i ragazzi e le ragazze ovviamente che sono loro affidati, per portarci un aneddoto, un episodio, una situazione, qualcosa che sta succedendo e che li colpisce, perché dice qualcosa di questi ragazzi e ragazze con cui hanno a che fare tutti i giorni. L'altra fortuna che avete è di ascoltare persone che con i ragazzi e ragazze ci stanno e quindi li conoscono. Allora, partendo da voi, che siete in due, maggioranza, maggioranza relativa, diciamo, vi chiedo appunto, che cosa, se vi chiedessi di portare una storia, un episodio, una cosa che vi ha colpito da raccontare, che sia paradigmatica dei ragazzi con cui avete a che fare, voi, quel c'era una volta, da dove lo comincereste? Allora, ovviamente questa è una situazione preparata, quindi sull'episodio in realtà ci siamo confrontati per trovare appunto un'immagine che ci racconta un po' lo sguardo, la prospettiva da cui l'Azione Cattolica vede alcuni giovani e vi vogliamo raccontare questo, aiutateci sui tempi se ci dilunghiamo, che ogni anno, quest'anno finalmente anche post pandemia, succede che c'è una mattina, un sabato mattina, in cui ci sono dei giovani che si ritrovano nella zona meno parcheggiabile di Bologna, cioè il centro diocesano che sta in via del Monte 5, di fianco alla cattedrale, eppure ci sono, ci sono tra l'altro a un orario improbabile della mattina e sono lì molto interessati, ci sono questi giovani e ci sono perché hanno proprio un obiettivo da portare a casa, sono appassionati, ci tengono, arrivano preparati con un sacco di carte telefonate fatte, di preparazioni precedenti e si ritrovano lì, c'è qualcuno che li accoglie, quest'anno mi hanno detto anche con delle brioche calde, questo di solito aiuta, però c'è qualcuno che li accoglie, ma soprattutto ci si ritrova, ci si rivede, ci si risaluta. Questi giovani vengono da diverse parrocchie della diocese di Bologna, cosa li accomuna? Sono degli educatori, sono educatori che quel giorno lì vanno ad iscriversi al campo, il campo estivo che è una, diciamo proprio una firma dell'azione cattolica di Bologna, in particolare perché da 50-60 anni partono 50-60 campi, adesso con pandemia un po' meno, ma all'anno e sono campi fatti di giovani, di ragazzi, giovanissimi, anche proprio piccoli, però diciamo quelli che quella mattina lì sono ad iscrivere i propri ragazzi al campo, quindi i ragazzi delle medie, delle superiori sono dei giovani, come dicevo, giovani appassionati, interessati, che sono lì anche a costo di prendersi una responsabilità, perché ci sono anche delle strategie quel giorno lì, se tu hai già fatto qualche manovra, ti prendi la responsabilità di essere il responsabile del campo, è più facile che riesci ad ottenere la settimana che vuoi, nel campo che vuoi tu, con le parrocchie che vuoi tu, se riesci ad avere una buona relazione anche con i preti che accompagnano il campo, anche lì, insomma, riesci ad ottenere qualche cosa, insomma, sono persone che si sono date particolarmente da fare, ci tengono e si prendono delle responsabilità. Basta, lascio la parola a Stefano. Sì, solo per aggiungere e per sottolineare ulteriormente che sono proprio loro l'oggetto di intervento, mi avrebbe da dire ingegneristicamente, cioè proprio la materia sulla quale sono mirate le proposte e sulla quale, diciamo, si interroga l'Azione Cattolica. In realtà è una... stasera parliamo di giovani, l'Azione Cattolica ha un panorama di proposte, anche per più piccoli e più grandi, però insomma, ci piaceva riportare questo episodio perché proprio convergono lì, parlando di giovani, queste figure che sono proprio l'oggetto dell'attenzione dell'Azione Cattolica, riassumendolo, persone che si sperimentano come laici, che si impegnano e che hanno in quel momento della loro vita un... hanno a cuore un po' la formazione di qualche ragazzo che gli è affidato e propongono loro questa esperienza. L'altra cosa che approfitto per dire, magari non è chiarissima e che verrà comoda nelle successive domande, ecco, non esiste un gruppo di, non so, 15-16 anni dell'Azione Cattolica. Io vado lì in qualità di educatore della mia parrocchia, della diocese di Bologna, ho un gruppo di ragazzi che seguo, che faccio educatore, ho deciso per quell'anno, insomma, di sposare la proposta dell'Azione Cattolica, magari è una cosa nota a tutti, però insomma c'è questo un po' bel rapporto che mi pare di capire sia tipico di Bologna, cioè di una importante presenza diocesana che poi si nutre e si cala nella realtà parrocchiale. Mi colpiva di quello che avete appena detto e ve lo chiedo subito alcuni termini che avete usato, perché sono parole, come dire, quasi da invidiare per certi contesti o almeno per chi ha a che fare con i giovani. Voi avete usato dei termini appassionati, interessati, responsabili, desiderosi di darsi da fare. Ora, nell'immaginario comune è vero che molti giovani, per fortuna oggi, sono così. Noi siamo usciti dalla narrazione un po' comoda dei giovani sul divano, dei bamboccioni, chi ha qualche anno come me, forse se la ricorda. Voi come ci siete riusciti a ottenere questa possibilità di parlare e di dire i nostri sono appassionati, interessati, responsabili? Cioè qual è il modo con cui si ottiene questo risultato? Perché la cosa interessante della loro storia è che è vera. Cioè non è che è una cosa che dicono noi vorremmo ottenere questo. Questa cosa succede già. Perché succede? Diciamo che tra tutti gli episodi che potevamo portare ne abbiamo scelto uno particolarmente positivo. Potete raccontarne anche di particolarmente... Esistono credo anche... Più impegnativi? No, dico che esistono evidentemente anche giovani che magari sposano proposta dell'Azio Cattolica che magari non hanno tanto piacere di spendersi, che non hanno queste qualità. Ecco però... Io aggiungo che questo succede perché non sono nostri, cioè appunto non sono per forza, non sono forzatamente delle persone che hanno sposato l'Azione Cattolica. L'Azione Cattolica fornisce una possibilità e c'è chi ne utilizza. Quindi c'è una motivazione che va al di là dell'associazione, va perché quel ragazzo per vari motivi svariati della sua vita, in quell'anno lì si impegna a portare dei ragazzini ai campi. Quindi fare una settimana perché magari ha gli amici, gli amici del gruppo, perché di famiglia, perché l'ha sempre fatto, perché anche lui l'aveva fatto da ragazzo. Insomma, le storie possono essere tante, però questa cosa funziona perché è l'esperienza dei campi che in qualche modo ancora chiama, attira, interessa, parla, eccetera. Poi appunto, per metterci anche la parte, non solo quella edulcorata, però che è vera, è assolutamente appassionata. Una volta prima di internet c'erano ragazzi che si mettevano alla porta del centro diocesano la notte prima per essere in fila, cominciavano a segnare la lista per essere lì, perché volevano proprio fare quell'esperienza lì, con quelle persone lì. Quindi c'era una motivazione forte, credo che ci sia tuttora. Ci sono anche scontri forti, perché poi non sempre si ottiene esattamente quello che uno voleva, anche se è arrivato prima, anche se si rende responsabile. Ci sono anche scontri, insomma, poi da maneggiare. Ecco, tutto questo perché i giovani arrivano anche con delle pretese alte, i ragazzi di adesso, forse ancora più incastrati rispetto a prima, perché sono giovani studenti, laboratori, ma che hanno 3.000 cose che tirano da tutte le parti, la vacanza con gli amici, lo studio, il lavoro. E quindi l'estate non è più un tempo di cui ho completa disposizione, deve essere un po' più ritagliato. Bene, grazie. Allora, gli aneddoti sugli scout penso che si sprechino, ovviamente. Però ecco, magari Irene ne ha qualcuno di nuovo, è più efficace, diciamo così, da proporci per seguire un po' questo filo di riflessione. Abbiamo, se avete sentito bene, anche sfatato un po' alcuni cliché di comodo che spesso si accompagnano quando si parla di giovani, perché effettivamente non è così comune, almeno dipende le opinioni che ne avete voi, però non è così facile parlare di giovani in questi termini. Tu invece, Irene, che storia ci porti? Allora, io mi sono così a lungo interrogata su che storia portare, perché la bellezza del servizio che faccio è anche quella di raccogliere tante storie diverse dall'esperienza dei nostri gruppi, che sono situati in maniera abbastanza capillare sul territorio della diocesi, quindi sia sul territorio proprio di Bologna che sui comuni di quella che è oggi la città metropolitana. Poi però ho fatto la cosa un po' più semplice, che però mi colpiva per la suggestione del titolo dell'incontro di stasera, quindi giovani in movimento. Dove vanno questi giovani? E allora mi sono un po' guardata in casa, ho pensato ai ragazzi del mio gruppo. Io, oltre a fare un lavoro di coordinamento, faccio parte di un gruppo scout che fa capo alla parrocchia di San Giuseppe Sposo a Porto Saragozza. I nostri ragazzi più grandi, che quindi hanno dai 16 ai 20 anni, più o meno, si stanno preparando con molta operosità a un campo di servizio che faranno quest'estate in Romania. E in questi mesi, quello che io vedo e che mi ha colpito molto, è stato come loro stanno cercando proprio di impegnarsi, oltre al prepararsi, al capire che cosa andranno a incontrare, come potranno essere utili, quali sono le realtà che andranno ad aiutare. E in questo sono in qualche modo aiutati da un coordinamento che la nostra associazione fa per proporre esperienze di questo tipo in paesi che hanno chiaramente anche delle difficoltà logistiche da raggiungere. Quindi immaginiamo anche che la Romania si trova comunque a poche centinaia di chilometri da un paese in guerra che è l'Ucraina. Dall'altra parte, l'operosità dei ragazzi, sempre un po' nel tentativo di sfatare un po' questo mito, è che si stanno dando da fare per cercare di recuperare anche i soldi necessari per partire, quindi per fare i biglietti, per avere appunto tutto ciò che serve. E lo stanno facendo in modo molto vario, allora hanno organizzato un cinema all'aperto, tirando su una struttura fatta con dei pali e tutte una struttura ingegneristica che si sono inventati, stanno organizzando dei pranzi, hanno organizzato tra l'altro in pieno inverno anche un car washing per le auto dei parrocchiani, e quindi è anche molto bello vedere come ci sia un tentativo anche di non andare soltanto a chiedere ai genitori un contributo, ma anche nel fare questo. E per fare un'esperienza di un servizio forte, perché quello che loro faranno è essere inseriti in una comunità parrocchiale che si occupa di bimbi di strada, e quindi insomma credo che possa essere un tentativo di rispondere a questa idea di dove vanno questi giovani. Poi però mi è venuta in mente un'altra cosa, sempre parlando appunto di movimento, sia come fatto di spostarsi da un luogo all'altro, sia sul fatto che per noi lo scoutismo è anche un valore, nel senso che è un movimento mondiale, e tra i valori che cerchiamo di insegnare ai nostri ragazzi c'è anche quello della fraternità internazionale, cioè che gli scout tra loro sono fratelli e sorelle. E in questo, così una breve nota, ed è la storia di questi 18 ragazzi che partiranno dai nostri gruppi quest'estate per raggiungere la Corea, dove ci sarà un raduno internazionale che si chiama Jambory, ed è un'idea così un po' avvenieristica del nostro fondatore, di Baden Powell, cioè un ritrovo internazionale per ragazzi scout che provengono da tutti i paesi del mondo. Nell'ottica di incontrarsi, di conoscere, sono ragazzi anche abbastanza piccoli, perché faranno un'esperienza ai ragazzi che hanno 14, 15, 16 anni, qualcuno, e dieci giorni di campo, e quindi l'idea è proprio quella che si possano incontrare, che ci possa essere uno scambio di culture, di modo di fare, di modo di fare scoutismo, e anche proprio nell'ottica di costruire una fratellanza, e così un'idea di pace che possa partire proprio dalle generazioni più giovani. Quindi è una cosa che stiamo sentendo molto, perché questi 18 ragazzi che partiranno sono accompagnati dai loro gruppi di origine, e quindi insomma ci piace pensare che ci possa essere anche un movimento inteso in questo senso. Se non ricordo male, una delle intuizioni di Baden-Paulo rispetto a questo evento mondiale, il sottotesto era, io sono convinto, diceva più o meno, che se due ragazzi di due paesi diversi passano una settimana insieme a giocare assieme, se si ritrovano un giorno in guerra non si sparano. E questo forse anche, lo dico perché, per motivare anche l'attualità, perché uno dice, beh, un raduno mondiale, una grande gozzoviglia di divertimento sfrenato, eccetera. No, c'è sotto sotto anche forse qualcos'altro. Però di quello che diceva Irene, mi veniva da sottolineare una cosa, che sottolineo usando delle parole del Papa, che una volta ha scritto questo, dice, i giovani cercano quell'autonomia complice che li fa sentire di comandarsi da soli. E' dovere di tutti noi stimolare attività che mettano i giovani alla prova e che li facciano sentire protagonisti. Questo mi è venuto in mente questa frase, l'intervento di Irene, perché quello che ha detto indica, lei ha tracciato anche un'immagine del presente, ma molto proiettata nel futuro, cioè ci ha detto, i ragazzi di adesso, che abbiamo a che fare adesso, in questo momento stanno pensando a cose che faranno fra molto tempo. Allora, questo aspetto del progettare, del progettarsi, quanto conta oggi? Cioè quanto è importante? Perché, ripeto, viviamo nell'epoca in cui, per chi ha a che fare ancora una volta con i ragazzini, questi mettono dei video che durano, sapete, ci sono queste applicazioni che fanno la foto nell'istante, istante per istante, poi tutto passa, viene cancellato, si fanno le storie che durano un po', poi vengono cancellate, le fanno anche gli adulti, ma questa è un'altra storia. Però, vivono molto nel presente. Invece, questa sottolineatura di questa associazione dice, no, è importante che loro si impegnino ora per qualcosa di più avanti. Perché è importante? Allora, intanto, il fatto di progettarsi è proprio uno dei carding del nostro far associazione. Il fatto di imparare a porsi degli obiettivi, a delineare degli strumenti con cui questi obiettivi si possano raggiungere, sono importanti perché la nostra associazione funziona secondo un principio di progressione, no? E quindi anche i valori a cui noi li educhiamo sono valori che loro fanno propri progressivamente. E il progettarsi sicuramente, che può sembrare una cosa terribilmente anacronistica nel 2023, è anche però, come dire, una competenza che ti serve per la vita, no? E quindi farsi indispensabili, no? Diventa qualche cosa che per i nostri ragazzi ci dice del tanto, no? Del fatto del progettarsi per, diceva Baden Powell, fare del proprio meglio, no? Quindi cercare sempre in questo di darsi dei traguardi, degli orizzonti da raggiungere, che però non ci facciano mai sentire arrivati, no? Cioè qualche cosa che progredisce e che anche al momento, quindi ai vent'anni, quando il momento della nostra proposta da educandi, diciamo noi, finisce, possa essere comunque uno sprone che anche poi nell'età adulta e poi anche oltre rimane, no? Quindi a cercare di fare sempre meglio, ma farlo secondo una progettualità concreta che ci dica tanto del come ci arrivo, quando ci arrivo e secondo quali passi. Grazie. Allora, chiudiamo il giro di tavolo con Giovanni Aracichini. Anche a lui chiedo, pensando a un qualcosa di specifico che è successo, che ha visto, che ha sentito, ha raccontato, qual è la cosa che in questo momento più gli viene in mente per descrivere la sua realtà, i giovani della sua realtà? Allora, io sono Giovanni Aracichini, faccio l'insegnante, insegno matematica, sono sposato, tre figli, e ho cominciato a conoscere i giovani contro voglia, tra virgolette, perché la mia prima esperienza lavorativa è stata di ricerca universitaria, e quindi non avevo il pensiero di implicarmi con loro. Quello che ho scoperto, che sto scoprendo sempre di più, è che questa progettualità di cui parlava Irene, perlomeno nella nostra esperienza, è figlia di una profonda amicizia, ovvero, una profonda amicizia che è come il riflesso di un'esperienza di un fatto che accade, mi spiego. Siamo andati al triduo di GS sotto Pasqua, dopo tre anni di Covid, quindi avevamo saltato, e il triduo, come proposta, non è tra le più affascinanti di per sé, perché sono tre giorni, dal giovedì santo al sabato santo, sono due lezioni, la via Crucis e un'assemblea a Rimini, quindi non vai a fare dei gozzovigli a Rimini, ma vai a sentire un prete che fa lezione. Quindi di per sé, per la situazione mondana, non era molto affascinante. Però è successa una cosa enorme, a mio avviso, cioè due cose enormi. La prima, il fatto di incontrare migliaia di giovani in silenzio, in un solo salone, e mi sono chiesto, di fronte a questi canti curati, un'accoglienza, uno che era lì per loro, mi sono chiesto perché il silenzio. Uno dei problemi a scuola, faccio l'insegnante, è tenere la classe, quindi avere il silenzio. Ma il silenzio c'è quando succede qualcosa. Cioè io, quando è nato il mio figlio, la prima, di fronte a quel fatto lì, ho detto sta accadendo qualcosa di grande, che genera silenzio. Quindi questa cosa è il primo punto, cioè succedono ancora delle cose fuori da noi che sono capaci di attrarre. E di attrarre nella loro potenza, quindi di tirarli fuori anche da questa estrema fragilità che hanno. E per questo se ne parla, quando si parla di giovani se ne parla male. E secondo dato, di fronte a qualcosa che succede, questi ragazzi sono splendidi, cioè sono capaci di riconoscerlo, cioè hanno una capacità enorme di riconoscere la verità. Quindi si può raccontare qualsiasi cosa, ma si attaccano dove incontrano le cose vere, a tutti i livelli. Recordo un esempio piccolo, sempre a questo triduo, uno dei ragazzi qui presenti, ha invitato un suo compagno di classe che non aveva mai fatto esperienza con noi, gioventù studentesca. Tra l'altro lui che l'aveva invitato non era in albergo con questo che aveva invitato, quindi una situazione, diciamo, non proprio delle migliori. Alla fine dei tre giorni, in un'assemblea, questo ragazzo racconta, dice questa cosa. Io ho visto qui, vi ho visto con gli occhi che brillavano, nessuno aveva mai fatto un'osservazione a proposito. Siete come una famiglia senza sangue, non di sangue, no senza sangue, non di sangue. Ecco, questo, uno con una storia particolare, difficile, cioè nessuna difficoltà attuale, impedisce a questi ragazzi di essere in movimento. Di essere in movimento vuol dire di riconoscere quello che è vero. Il problema è cosa abbiamo da offrire. Cosa abbiamo da offrire a questi giovani. In un dialogo col cappelletto... Ho un minuto ancora? Anche di più. Ultimamente stiamo incontrando, non so, per desiderio dei ragazzi, le cose le costruiamo insieme, anche rispetto alla vita, alle preoccupazioni, le cose che studiano, gli incontri che fanno, abbiamo incontrato diversi cappellani del carcere, anche quello del carcere di Bologna, e lui raccontando le realtà che incontra di questi ragazzi in carcere, ha fatto un'osservazione che va molto... mi ha chiamato in causa direttamente, mi ha detto, il problema non sono i drammi che vivono, i drammi che vivono sono espressione del bisogno di qualcosa di vero, e questo si esprime in maniera storta, chi fa un crimine, chi non fa un crimine fa altro, comunque sono espressione di questo, il vero problema sono gli adulti, cioè di cosa hanno bisogno adesso questi ragazzi, di adulti che vivono un'esperienza, che stanno nella tempesta, perché la tempesta c'è, perché i cliché se ci sono, sono mezze verità, a per uno e tre quarti, però vedere uno che sta nella tempesta con loro, questo a qualsiasi livello, a qualsiasi scuola, con qualsiasi problematica, situazioni familiari e così via, loro lo riconoscono, e si mettono in movimento, e da persone non capaci di progettare, a un certo punto diventano anche capaci di progettare, perché una ragazza mi diceva parlando, ma come è stupida una cosa semplice, diceva, ma tu ci sei, ci sei qui per me, questo loro lo capiscono, lo capiscono perché capiscono come una stima profonda verso di loro, più che un certo comportamento che devono avere, che si denuncia. Mi chiedevo questo, ascoltandovi, e così faccio una domanda che ci permette di tornare dall'altra parte del tavolo, avete tutti indicato un esempio, era così il giochino, però avete scelto tutti delle cose molto particolari, cioè un evento a Rimini dove c'erano migliaia di giovani che stavano in silenzio, un evento lontanissimo da noi, anzi due eventi lontanissimi da noi, una quantità molto importante di iniziative estive, curate, preparate, in cui uno si mette, eccetera, eccetera. Allora mi chiedo, visto che avete detto che queste cose funzionano, cioè tutti quanti avete detto guardate, se devo dire una cosa che funziona, avete scelto una cosa che è molto importante e che sta funzionando per descrivere la vostra associazione, giustamente, però avete scelto tutti quanti un esempio molto tosto, cioè non avete scelto guarda, l'altro giorno abbiamo rimesso, abbiamo ridipinto i muri della nostra, abbiamo fatto i canti a messa perché adesso sono venuti bene, eccetera, eccetera. Allora mi chiedo se per fare la cosa che Giovanni Raccini ci diceva, attrarre, perché una volta che sei dentro poi con loro fai, ma per attrarre, l'unico modo, al di là della questione del vero, cioè di fargli fare cose vere, perché tutti voi avete descritto cose vere, cioè i campi sono davvero in presenza, persone, in posti, scelti, curati, il vero è in Cile, in Romania, il vero è a Rimini, in silenzio, perché immaginatevi a Rimini in silenzio, Rimini è la capitale di tutto, tranne che dei silenzi, probabilmente. Il modo è quello di fare cose, il primo modo di attrarre oggi è, se non gli propone una cosa tostissima, dirompente, quasi scioccante rispetto al modo in cui sono, al mondo e al modo di fare in cui sono immersi, non li agganci perché è troppo facile la routine. Cioè hai bisogno di fare una roba strong, e tra l'altro tutti e tre avete usato indici quantitativi significativi, cioè non avete detto quei quattro ragazzini lì, avete usato tutti numeri importanti di coinvolgimento e di capacità di innescare ragazzi. Se non faccio una cosa super oppure oppure sì, non lo so. No, no, io posso io? Certo, devo ripartire da te per tornare qua. No, anzi, io ripeto quello che ho detto, cioè ripeto, lo rimodulo. Io, quando uno resta attratto, quando uno resta attratto, io credo che, guardo i miei studenti e anche i ragazzi che ho incontrato con con giuventù studentesca, cioè l'attività in sé non attrae, cioè quante volte ci siamo trovati a dire delle cose non riuscite, nel senso di non riuscite sotto tanti punti di vista, non ha avuto successo, quello non ha capito niente, l'attività in sé è come la forma che assume una vita vera, ripeto. Quando dico una vita vera dico cioè io quello che ho da proporre è coinvolgermi con loro nella scoperta ognuno insieme ma personale del proprio, usa una parola forte è il proprio destino, cioè uno si accorge subito se i ragazzi si accorgono subito quando se tu gli chiedi di fare delle cose a un certo punto si rompono o si sentono usati per un fine perché tu li usi per come che può essere anche buono questo fine ma se in ballo non colgono che c'è in quello che gli stai proponendo che quindi infine è la tua vita un l'incontro l'incontro con una presenza che che li fa felici non si muovono non li attrai ma non li attrai perché lo scopo adesso parlo anche questo per esperienza personale anzi li allontani li allontani perché sono sono dirompenti e se sì non si accontentano c'è tanti dialoghi avuti proprio di insoddisfazione faccio questo e sono insoddisfatto faccio questo e poi c'è il male cioè deve essere devono avere davanti e quindi la proposta quello che diceva Luigi prima io credo che sia molto vera cioè il vero tema è per essere attraetti posto che sia uno scopo è vivere che l'adulto viva la risposta alle sue domande e lo porta con sé questo si dettaglia in gesti anche piccoli noi un'altra cosa voglio raccontare proponiamo a tutti la caritativa che è un'attività bisettimanale di servizio possiamo chiamare è una delle modalità che Don Giussani il fondatore ha proposto a tutti i membri della di comunione liberazione e anche al nata proprio agli albori del movimento e questo gesto è un gesto semplice c'è chi va a portare i panini ai barboni chi va semplicemente a far compagnia ai disabili chi va al banco di solidarietà quindi da vestiti o altro cioè l'attività è varia però questo gesto piccolo semplice bisettimanale io vedo ragazzi che cambiano faccia cioè nell'arco degli anni cioè dalla prima alla quinta questi cambiano faccia c'è una vita cambiata perché perché è il modo con cui si confronta cioè in cui sperimentano la carità non so se si capisce che non è è tutt'altro che un gesto eclatante anzi che avviene nel come quasi nel segreto sì infatti la mia domanda era volutamente provocatoria proprio per generare queste risposte per cui la rifaccio uguale all'Irene allora secondo me la capacità attrattiva della nostra proposta va su due binari il primo è quello delle relazioni nel senso che fin da piccoli loro sono abituati a vivere delle relazioni molto forti con gli altri bambini le altre bambine perché hanno un tempo un po' sospeso rispetto a quella che è la loro quotidianità in cui prima giocano insieme poi fanno cose insieme e poi vivono quando sono più grandi proprio l'aspetto della comunità che è proprio una cosa talmente importante che il nostro modo di fare educazione ci dice che è una comunità educante perché nel loro stare insieme si educano praticamente tra di loro attraverso le relazioni che instaurano attraverso i più grandi che insegnano ai più piccoli attraverso il fatto di imparare a stare insieme anche tra maschi e femmine e poi la relazione con l'adulto che è un adulto che lo scoutismo dice che il capo e le capo sono fratelli e sorelle maggiori quindi l'idea che questi ragazzi abbiano la possibilità di confrontarsi con delle figure più grandi ma che non siano i loro genitori che siano delle persone che hanno già fatto delle scelte prima di loro ma che non abbiano una differenza di età che li ponga su piani troppo diversi e che quindi nel nostro modo di essere testimonianza di ciò che abbiamo scelto siamo proprio anche chiamati a guidare i nostri ragazzi senza la pretesa di essere però appunto dei maestri o dei genitori quanto appunto dei fratelli maggiori e l'altro binario che secondo me è attrattivo è di fare una proposta in cui loro fanno delle attività che un po' si progettano ma che escono un po' fuori dall'ordinario della loro vita una dei carni della nostra proposta è l'importanza della vita all'aria aperta per cui tutti quei ragazzi che non andranno a fare i campi di servizio si faranno una settimana dove cammineranno in montagna dove avranno appunto con la loro comunità di riferimento però un momento anche di essenzialità di vivere la strada che inteso come come camminare come fare strada insieme e questo forse esce un po' dai binari e quindi normalmente quando c'è la classica domanda cosa fanno gli scout non si sa mai che cosa rispondere forse perché proprio c'è questa magia un po' in questo tempo che rimane un po' sospeso e fuori dall'ordinario dei nostri ragazzi dei nostri bambini ma secondo me anche dalla vita di noi capi ecco grazie e in effetti il senso della domanda un po' provocatoria sul tema dei grandi eventi era cosa succede non tanto nella progettazione dei campi estivi ma cosa succede prima cioè nel senso tutto questo insieme di tensione positiva che viene trasmessa come funziona a funzionare prima che avvenga lo sperato campo estivo il momento di prontazione questo era un po' il sottotesto della cosa ma anche a voi chiedo un po' come si fa anche voi avete focalizzato su un cuore molto pulsante della cosa ma come si fa a tenerli agganciati a tenerli a fare in modo che effettivamente quel giorno si presentino come si fa a far venire loro e a far venire i ragazzini ai campi allora credo sia importante ricordarsi un po' l'obiettivo della proposta cioè l'obiettivo della proposta chi ci ha introdotto prima ha detto che siamo tutte delle associazioni o dei movimenti cattolici e quindi è importante che ci ricordiamo sempre che in questo grande imbuto che comincia con una proposta poi dopo finisca a parlare del Vangelo a parlare di Gesù nella mia vita insomma se calibro la proposta rendendola interessante allontanandomi da questo obiettivo secondo me si fa un po' di cortocircuito quindi questo secondo me è importante e non aiuta la proposta ad essere tanto interessante perché bisogna costantemente rinnovarsi perché secondo me ci sono diversi problemi ad esempio il giovane oggi si muove più per interesse che per gruppo ricordo quando una quindicina d'anni fa io avevo una quindicina d'anni non ero tanto interessato alla proposta che l'educatore mi faceva mai ero interessato al gruppo io vado lì cioè i miei amici adesso probabilmente sono più attento o invogliato a partecipare se sono interessato alla proposta quindi ragiono per interesse e non per gruppo l'altro tema ad esempio è che sono sempre portato io come giovane a trovare un'identità o distinguendomi dagli altri oppure rendendomi simile agli altri ecco l'azione cattolica in questo senso fa un po' fatica perché è come se ti chiedessi un po' tutte e due di distinguerti diventa associato ma non distinguerti tanto perché comunque rimani calato nella età parrocchiale secondo me la differenza la fa come si diceva la differenza la fa l'educatore che riesce a trasportare nella proposta anche il suo vissuto c'è questo collegamento tra la proposta che ti faccio e l'obiettivo che devo raggiungere che deve essere chiaro che deve parlare anche a me che ti ascolto a me ragazzo che ti ascolto altrimenti rimane una proposta magari se parliamo di temi importanti di attualità però dopo non si arriva mai al dunque funziona se chi mi accompagna ecco mi fa vedere con la sua vita che qualche cosa significa per lui grazie allora se rimettete insieme un po' il filo rosso di quello che avete ascoltato fino adesso avete l'esatto quadro diciamo così molto puntuale di cosa fanno e come lo fanno queste tre realtà che parlano stasera è stata appena usata una parola molto ne sono state usate due in questo ultimo giro una è quella della felicità e l'altra è quella l'espressione chi mi accompagna perché poi possiamo dire che le cose ci avete raccontato che le cose funzionano ma ci sono il contesto in cui voi lavorate è un contesto che pone delle situazioni non facili cioè è vero che i giornalisti fanno il loro sporco mestiere quindi raccontano più facilmente di baby gang e altre cose di questo genere aperta a prendere non si può pronunciare la parola baby gang quindi qui lo dico qui lo nego perché la mia professione ideontologicamente me lo vieta ma per fare un esempio che capiamo tutti però è anche vero che ci sono un bel po' di questioni delicate e tra virgolette problematiche sui giovani nella nostra città è stato appena detto è stato fatto un convegno proprio ieri sui disturbi di fatica di crescita dei ragazzi che ha portato ad un aumento di problemi di prese in carico del sistema sanitario dei giovani per tanti problemi che hanno quindi come dire il rapporto tra la capacità di crescere e essere felici spesso sfocia bene se magari vi incontrano ma spesso pone anche dei problemi allora io volevo chiedervi proprio quali sono i problemi che voi vedete e che avvertite si diceva prima chi mi accompagna c'è una bella storia di educazione che funziona molto bene non so se la conoscete la storia di questo gatto che insegna il gabbiano a volare un gatto non insegna un gabbiano a volare non ci può riuscire perché sono due cose diverse tuttavia questo gatto si assume da educatore un compito quasi impossibile far volare un giovane è molto bella come metafora ma quando è e accompagna questo gabbiano però cosa fa qual è il momento in cui la storia come dire gira quando il ragazzo cade cioè quando la gabbianella prova a volare e non ci riesce e appunto lì c'è la capacità di accompagnare accompagnare e non portare come diceva scusate fondatore di Libera adesso mi sfugge l'uomo Don Ciotti scusate accompagnare e non portare ma di riconoscere il problema allora io vi chiedo con i vostri ragazzi con cui avete a che fare e parto dalla Cichini quali sono i problemi di crescita che voi vedete quelli che rischiano di diventare dei blocchi blocchi di crescita cioè che frenano la crescita che fanno rimanere imprigionati nel cui ora che non fanno progettare che non fanno sognare in grande che non fanno essere felici quali sono le urgenze che voi vedete come problematiche perché presumo che le incontriate perché sicuramente ci avete descritto cose che funzionano ma invece cosa vi colpisce dei problemi che hanno i vostri ragazzi i ragazzi con cui avete a che fare allora è un'infinità di problemi direi un po' di tempo l'abbiamo un po' di tempo l'abbiamo no io comincerei da questo parto sempre da noi adulti perché credo che siamo in realtà il nodo spesso questi ragazzi cioè i ragazzi ma prima premessa le dinamiche che vivono loro sono le stesse nostre espresse in maniera diversa e a volte più violenta ma il punto è simile anzi è proprio lo stesso anzi se non ci fosse questo punto non ci potrebbe essere dialogo né accompagnamento e la prima cosa che vedo è un grande giudizio sulla prestazione mi ha fatto impressione hanno occupato hanno occupato il copernico hanno occupato il minghetti poco tempo fa e l'occupazione quest'anno più degli altri anni non era non aveva per i manifesti per i dialoghi avuti per i manifesti che hanno tirato fuori non era tanto un'espressione politica quanto una manifestazione di disagio di disagio dovuto all'ansia ma l'ansia di che cosa l'ansia di prestazione quindi questi noi in primis siamo nello stesso mondo l'ansia di andare male a scuola se non riesce perché poi la famiglia vuoi o non vuoi implicitamente direttamente vuole che tu performi in un certo modo gli amici anche con gli amici non so se i ragazzi sono cattivissimi tra di loro sanno essere cattivissimi perché si misurano su tutto quello che fanno tu fai questo ti vesti così quello ha fatto questo quello viene da quella famiglia ed è sempre figlia di una certa perciò devi avere uno standard dentro a uno standard trasmesso semplicemente dai social e tutto questo e quindi io questo lo vedo come un punto importante perché dopo nella crescita io lo vedo anche in me da educatore tu ti misuri con la prestazione quindi se tu cresci dentro un ambiente che ti misura e tu quando ti siete misurato perché non va bene essere misurato perché non è la parola definitiva sulla tua vita se uno ti guarda come tutto consistente nel voto nelle amicizie che fai se hai fatto una scemenza se se non stai andando con le amicizie giuste se se questo giudizio piuttosto che l'accoglienza l'accoglienza profonda l'accoglienza profonda è figlia dell'essere accolto io e il papa siamo andati il 15 ottobre che ci ha convocati a Roma dico ci con il movimento di liberazione e ci è sortato ad andare alla prima Galilea perché ci è sortato ad andare alla prima Galilea cioè al momento in cui noi in noi è successo qualcosa perché come sono come divento io capace di accogliere l'altro e di perdonarlo su un errore che fa se io in primis sono oggetto di questo sguardo quindi tutti questi problemi ci sono poi altra cosa assolutamente in balia del sentimento quindi incapacità di dare un giudizio stabile spesso ma vivere l'esperienza che finisce con l'esperienza stessa quindi è difficile tirar fuori un qualcosa di significativo che resti quindi dura l'esperienza dura tanto quanto dura la sensazione questo è un altro aspetto che vedo però in tutto questo sono splendidi perché manifestano ti mettono con le spalle al muro cioè non puoi offrire niente che sia meno di quello che vogliono veramente e lo riconoscono quando succede quindi anche tutti questi problemi che ci sono poi le famiglie sempre più distrutte e quindi anche una instabilità tante volte ma niente ostacolo anzi ma tutto concorre al cammino mio parlo per me dell'educatore e al cammino loro se non dipende soltanto dalle tue capacità perché se no ritorni alla misura allora io parzialmente mi raccordo con Giovanni soprattutto proprio nell'ansia nel disagio di non sentirsi abbastanza questo sia in ottica appunto di performance però anche proprio nel come appaio questa è una cosa su cui stiamo cercando di lavorare molto qual è l'immagine che faccio vedere di me qual è l'immagine che proietto di me sui social attraverso i miei 3, 4, 5 profili diversi e quanto poi questo effettivamente pone degli schermi nelle relazioni che ho perché chiaramente non sentirsi abbastanza significa non riuscire pienamente a fidarsi dell'altro e non offrirsi anche proprio nella propria autenticità all'interno di una relazione di amicizia ma anche di una relazione di tipo sentimentale quindi questa sicuramente è la prima cosa e questo dell'immagine di sé è un problema per noi relativamente nuovo insieme a e questo è un po' un'eredità del post pandemia che abbiamo notato una difficoltà a leggere le esigenze degli altri che stanno intorno a me cioè qualcuno di fianco a me non è a proprio agio non si sente bene sono capace di venire l'incontro di stargli vicino di dare una mano mi sembra che ci sia una iper proiezione su se stessi sulle proprie esigenze che affatichi proprio lo sguardo sull'altro e quindi questa è proprio una cosa che che arriva dal dopo pandemia queste secondo me sono le cose più evidenti perlomeno in questo in questo momento questo tema della problematica sui giovani un po' mi tocca io lavoro come psichiatra siamo effettivamente un po' invasi da tante situazioni di malessere e quindi al di là proprio dello sguardo associativo ecco devo dire mi sono aperti tanti spunti mentre parlavate mi viene in mente un librettino molto piccolo che in realtà è già di qualche anno fa però secondo me riporta bene un po' questo vissuto rispetto all'identità dei giovani che è Fragili e Spavaldi di Pietro Pogli Charmé proprio perché fa bene notare come una volta l'identità era un po' più salda e il comportamento poteva essere qualcosa di giudicabile e quindi si poteva maturare anche un senso di colpa su un comportamento ritenuto errato sbagliato eccetera però potevo maturare qualcosa dentro di me che mi portava a crescere ancora invece i ragazzi vivono più questa dimensione del fallimento quindi non è più un comportamento fuori da me sono io che non vado più bene cioè è su di me il giudizio non è su qualcosa che ho fatto e quindi è molto più schiacciante e molto più faticoso da ricostruire l'aspetto dell'ansia della prestazione è rilevantissimo ma d'altra parte anche la società ci chiede veramente tantissimo ultimamente penso anche al mondo adulto ecco non soltanto al mondo dei giovani sembra di essere costantemente in centrifuga non ci si può fermare quindi questi due aspetti insomma un po' della dell'ansietà dell'essere schiacciati ecco in più in questo momento specifico non c'è filtro e il giovane che ha in mano il telefono hanno anche gli adulti però insomma il giovane ce l'ha e la notizia dell'ultimo bombardamento in Ucraina piuttosto che del fatto che abbiamo superato il come si chiama il giorno in cui le risorse della terra sono esaurite per quest'anno e quindi stiamo andando oltre tutte queste informazioni sul fatto che non c'è futuro arrivano direttamente non c'è un filtro forse tempo addietro c'era più filtro si poteva aspettare il telegiornale della sera a volte prima ancora l'edizione successiva del giornale adesso non c'è questo filtro arriva tutto in presa diretta il filtro adulto forse arriva più tardi arriva dopo questo come riflessione generale al di là proprio dell'azione cattolica mentre invece per l'azione cattolica avevamo pensato una risposta un po' più strutturata sì nell'ambito dei problemi dei giovani ce n'è uno secondo me importante che l'azione cattolica probabilmente vede e di cui si accorge e cioè che non è detto che la fede sia scontata cioè il adesso provo a spiegarmi perché se no si riesca di fare un po' di confusione non è un problema di di avere nello stesso gruppo due ragazzi di fedi di religioni diverse quello è un altro un altro tema è proprio l'azione cattolica ha bisogno e ha il suo focus ha bisogno di un ragazzo di un giovane che accompagni il il suo educato il suo gruppo di ragazzi e quindi la proposta è per i ragazzi ma contemporaneamente anche per il giovane che li accompagna ecco non è detto che il giovane non è detto che la fede del giovane sia scontata cioè probabilmente qualche anno fa si dava per scontato che io ti faccio una proposta educativa che ha il fine evangelico evidentemente e non mi pongo il problema che tu ci stia dentro che ci creda un conto poi è averla capita che probabilmente non si finisce mai ma crederci sì ecco e invece probabilmente adesso è giusto domandarsi se è veramente così cioè io torniamo alla proposta dei campi io mi avvalgo di questi ragazzi che sono appassionati che ci mettono tempo voglia idee eccetera delle volte non è detto che sia scontato che si definiscano cristiani ecco e questo credo sia un problema insomma come prima dicevi il gatto che deve insegnare alla gabbiana a volare insomma uno può studiare tutte le tecniche di volo possibili ma e quindi ecco questo era uno dei temi che ci piaceva condividere ecco che evidentemente non è genericamente del giovane del 2023 ma che probabilmente l'azione cattolica si sta accorgendo ecco avendo a che fare con i giovani che accompagnano altri ragazzi in queste proposte allora questo tema che è stato toccato è abbastante interessante secondo me perché tocca un sottotesto di questa serata e il fatto che le associazioni che sono presenti in realtà che sono presenti questo tavolo sono fortemente collegate a una scelta cristiana di fede cioè fa parte ontologicamente della loro proposta allora visto che parliamo di difficoltà e di problemi ve lo chiedo diritto per diritto cioè visto che appunto la crisi diciamo così è su questo tema è generale generalizzata però quanto è difficile crescere o tenere agganciato un ragazzo facendogli una proposta di fede cioè si riesce ancora al giorno d'oggi perché effettivamente nelle cose che avete detto questa cosa c'entra o non c'entra entrava ed è anche giusto che sia così perché appunto la persona poi ha un tutto non si può prendere solo un pezzo e dire adesso tu diventi un perfetto cristiano poi però sei un evasore fiscale e quindi mi chiedo come si fa a fare ai ragazzi una proposta educativa che però lavori anche su quel versante lì è una cosa attuale è una cosa anacronistica è difficile è facile qual è la vostra esperienza dice Giovanna insegno ai ragazzi a crescere in un certo modo e tra le cose che gli spiego gli dico credi in questo ascolta questa parola funziona si riesce dove sta la difficoltà e quanto è attuale questo tipo di proposta facciamo così il primo che gli viene facciamo che il primo che gli viene una risposta la dice se non fosse attuale non saremo qui a parlarne cioè questo lo dico proprio per me cioè per me l'unico motivo l'unico veramente l'unico perché se no avere a che fare spendere del tempo con dare gratuitamente del tempo senza questo che sto per dire si aggiunge ed è il motivo per cui se andate nel mondo gli chiedete ma perché non fai l'insegnante perché è una grandissima rottura perché non ti ascoltano perché non sono più quelle di una volta perché tirano i banchi quindi sarebbe un ulteriore problema da aggiungere alla vita che già ce n'ha abbastanza soldi moglie figli tutto quanto che già sono abbastanza io l'unico motivo per cui tu hai detto per cui ho deciso di aderire cioè la vita dei grandi educatori non è sganciata è una se penso Don Giussani penso Don Bosco sono persone che hanno vissuto autenticamente la loro vita e nel vivere autenticamente la loro vita hanno coinvolto hanno attratto ma non con lo scopo di attrarre è come una vita che si ma come si è diffuso il cristianesimo io non penso che i tempi di Gesù avessero cioè sì c'erano problemi diversi ma in sostanza è finito in croce capito non è che ha fatto sono andati leggeri per dire che io credo che il lavoro che bisogna fare in primis su di sé e dentro questo una vita che coinvolge anche le persone che incontri che sono anche giovani sia proprio riprendere le domande autentiche più profonde che sorgono dall'esperienza cioè se la fede è a un certo punto devi dire Gesù ma chi se ne frega ma vado alle grotte non so vado a fare quello che mi pare vado a spacciare vado se invece se invece cominci a prendere sul serio come come cosa che c'è dentro la realtà dentro i ragazzi che quello ti dice ti sta dicendo se si droga ti sta dicendo qualcosa ti sta dicendo che lui ha bisogno della droga per soddisfarsi e per rimanere insoddisfatto di quella lì allora il punto di partenza è questo quello che permette a meno a me ha permesso di guardare come ogni accenno a questo ogni disagio ogni fragilità come segno di una domanda più profonda per me è stato l'incontro con la persona di Gesù attraverso degli amici e se lo vedo incontrando le persone cioè aumenta la capacità di incontro la capacità di dialogo di ascolto più io lo vivo più aumenta questo anche questo cioè in movimento tu li trascini in un movimento li trascini quindi io credo che sia tutt'altro che una cronistica se recupera la sua dimensione di risposta ai bisogni più profondi dell'uomo che sono gli stessi che c'hanno i ragazzi abbiamo fatto un incontro su Leopardi un incontro su Leopardi con dei ragazzi per il centenario della morte di Don Giussani Leopardi ragazzi 2023 le domande erano le stesse fa impressione io credo che bisogna avere la pazienza e il cuore di star lì di star di fondo delle proprie domande lì mi veniva in mente per la Gesci è stato citato Giovanni Catti che era il cosiddetto si dice in gergo A.E. l'assistente ecclesiastico una volta c'erano un sacco di assistenti ecclesiastici nei gruppi scout adesso mi sa che non ci sono preti quindi non ci sono assistenti ecclesiastici allora è dura ci sono ci sono ci sono assistenti ecclesiastici che fanno veramente le magie ecco che sono già santi secondo me per per l'impegno profuso io rispondo io rispondo solo sul fatto se è difficile o no sì è molto difficile e la nostra associazione negli ultimi due anni si è interrogata a lungo su come fare educazione alla fede anzi educazione alla vita cristiana e il passaggio un po' epocale è proprio questo dall'educare alla fede a educare alla vita cristiana a dire che la nostra esperienza di vita è tutta un'esperienza di fede la nostra esperienza di vita è un'esperienza di incontro con il Signore quotidiano e quindi quello che stiamo provando a fare e su cui stiamo facendo anche molta formazione è proprio rileggere con i nostri ragazzi l'esperienza che loro vivono per riconoscere lì l'incontro con il Signore la presenza del Signore e capire anche attraverso la lettura della parola quali sono i modi in cui appunto il Signore ci parla in quel momento e sarà una sfida molto bella che però credo che dica molto del nostro appunto educare alla vita cristiana proprio attraverso l'esperienza attraverso il fare attraverso il camminare il mettersi a servizio degli altri però che appunto passi dall'esperienza e non tanto e forse anche dalla testimonianza di noi capi e non tanto da magari un approccio più frontale che vediamo essere sempre più difficile da recepire per i ragazzi e le ragazze prego sì condivido che sia terribilmente difficile è proprio un tasto molto dolente secondo me però ecco due cose mi venivano in mente ascoltando la prima è questa anche io insomma abbiamo un po' la paura nell'ambito di una proposta che faccio a un ragazzo e se devo arrivare a parlare del Vangelo e che cosa ci sta a dire il Vangelo con la sua vita ho come un po' la paura di nominare Gesù il Vangelo la messa sembrano un po' delle cose che io col giovane non devo non devo trattare perché so che se apro quel file mi sparisce l'attenzione si spegne lui e invece questa è una bella sfida perché secondo me bisogna che facciano parte della proposta questi termini e queste esperienze cioè il sacramento è lo strumento che abbiamo per incontrare Gesù quindi non è che si riesce a fare tanto diverso cioè posso metto insieme una proposta ma questi pezzi che fanno parte della mia fede li devo utilizzare li devo nominare perché sento un po' che c'è questo punto paura di fare la proposta che abbia un po' l'effetto che sia interessante ma che non arriva mai al dunque almeno nella mia piccola esperienza funzionava tutto bene finché i temi erano di carattere generale ma poi dopo quando si entrava nel nel dettaglio evangelico nessuno era più interessato questo è il primo punto l'altro punto è questo secondo me non dobbiamo avere la pretesa di ribaltare la fede del ragazzo del giovane cioè non è pensabile che nell'arco di qualche anno in cui abbiamo la fortuna di accompagnare un ragazzo un giovane lo portiamo alla santità ecco noi potremmo già fare grande cosa limitandoci a mettere un semino ecco anche perché poi dopo lo sviluppo della sua vita di fede va al di là di quello che riusciamo a dargli noi e soprattutto temporalmente va oltre il tempo che io gli dedico ecco quindi questi due punti grazie e prendo in presito la questione del semino nel senso che ancora rileggendo riunendo i punti che abbiamo scusato fino adesso lo stato dell'arte i problemi aperti e già con questi ultimi tre interventi uno spostare in avanti lo sguardo perché tutte e tre queste realtà ci hanno detto stasera che loro lavorano nel qui e ora ma hanno in testa alcune cose appunto si diceva adesso del semino hanno in testa un traguardo un arrivo un profilo ideale di questo ragazzo di come deve uscire di come deve crescere allora la terza domanda che vorrei fare è questa cioè quali sono in questo momento data la situazione attuale che ci avete descritto nei termini positivi e nei termini problematici perché abbiamo fatto questo lavoro assieme proprio per vedere cosa funziona dove c'è da mettere le mani allora vi chiedo quali sono gli strumenti educativi il metodo che utilizzate oggi proprio concretamente che cosa fate per stare per prendere di petto i problemi quali sono gli antivirus qual è la medicina giusta per fare in modo che i problemi che voi avete appena identificato siano superati e per arrivare a quale risultato riprendendo banalmente la storia della gabbiana a un certo punto il gatto non sa come fare a volare e prende una enciclopedia e studia il volo per insegnare a volare cioè si dota di un metodo perché il suo obiettivo chiaro è e lo dice nella storia dice tu al ragazzo che a un certo punto dice ma io voglio essere come te voglio essere un gatto dice no è sbagliato tu non devi diventare come me tu devi diventare si diceva destino tu devi diventare quello che sei chiamata a diventare allora quali sono gli strumenti che utilizzate nel vostro agire di associazioni di realtà educative e per che tipo di persona per che tipo di persona formale cioè l'uscita finale l'approdo finale è provare a costruire una persona che stia questo lo chiedo perché dopo magari faccio una provocatoria che sia più o meno così come vi piace pensare progettare questi ragazzi che quando diventano grandi abbiano quali risorse quali capacità e con quali strumenti ci lavorate Raccichini sono difficoltà su questa domanda non ne ho cioè non ne ho di traguardi ci sono tante emergenze però quello che ho a cuore è che dentro dopo le forme ci sono perché alcune cose le ho citate la caritativa i campi estivi che sono le forme con cui il movimento di DGS si diventa come dire costante quotidiano però io direi che il mio desiderio è che incontrino incontrino qualcosa che gli faccia dire guarda la la vita sei fatto bene sei fatto bene sei fatto bene e sei stato preferito che è la cosa che più desideriamo noi stessi per questo dico io credo che è come forse il ruolo forse introdurre alla bontà del reale che questo poi dà anche le energie per stare di fronte perché dopo la vita succedono cose in mezzo quindi che uno maturi in 30 anni che maturi io riflettevo che alcune cose che mi avevano detto quando avevo 14 anni adesso se mi dovessi misurare su che obiettivi ho ottenuto a 14 anni ero segato con le gambe segate proprio finito però di una cosa per questo dicevo chi sta nella tempesta cioè di una cosa ero certo di quelle facce che mi dimostravano che era bello stare al mondo e più vado avanti più in fondo quello che mi sostiene è approfondire la ragione per cui è bello stare al mondo e ti dà anche l'energia e la creatività di pensare dei modi il gatto che legge l'enciclopedia perché poi da professore se usi lo stesso metodo con due classi diverse tu sei la stessa persona ma anche nella stessa classe stessa persona becchi 5 gli altri non li becchi e viceversa io credo che questa sia un po' la radice che dà l'energia per scoprire anche il linguaggio e il metodo e allora io anche un po' di cose le ho già dette rispetto ai problemi che dicevo prima quindi proprio questa idea un po' del seguire la performatività sicuramente la carta che proviamo a buttare giù è quello del progettarsi cioè arrivare attraverso obiettivi e strumenti che i ragazzi dovrebbero essere gradualmente in grado di determinare raggiungono degli obiettivi per migliorarsi una cosa che secondo me è vincente è che lo scoutismo ci insegna a fare del proprio meglio che vuol dire non raggiungere tutti lo stesso risultato assoluto ma che ognuno riesca a mettere a frutto le proprie capacità per metterle a servizio degli altri e questo sicuramente è la carta che buttiamo giù per quel che riguarda secondo me invece l'apparire e tutto il discorso dell'immagine sicuramente il fatto di far vivere loro delle esperienze molto essenziali fa sì che comunque gioco forza ti devi spogliare di un sacco di cose che non sono effettivamente essenziali se vai a camminare in montagna per non fare troppa fatica devi avere uno zaino molto leggero e quindi questo secondo me aiuta a capire che cosa è necessario e che cosa non lo è e poi il fatto che comunque come dicevo prima una proposta che rimane effettivamente fuori dalla quotidianità in cui i ragazzi si sentono forse più liberi di essere autentici per lo meno questa è la risposta il feedback che abbiamo l'obiettivo finale noi in realtà ce lo abbiamo molto ben codificato quando i ragazzi hanno 20-21 anni sono chiamati a fare una scelta cioè scegliere se diventare noi diciamo uomini e donne della partenza cioè innanzitutto capaci di scegliere per la propria vita capaci di scegliere il bene e di essere buoni cristiani buoni cittadini questo è un altro aspetto molto importante che è molto connesso con l'essere buoni cristiani cioè capaci di portare un reale cambiamento nel solco del messaggio del Vangelo e poi anche fare dei valori che lo scautismo ti trasmette l'essenzialità la spensieratezza del gioco il fatto di stare insieme tra pari e il rispetto delle regole di fare questo il servizio qualche cosa che è per la vita ecco e quindi in realtà dal dal momento in cui effettivamente bambini e bambine iniziano ad approcciarsi al mondo scout l'obiettivo è quello con una gradualità che come appunto evidenziavo prima è commisurata all'età e alle esperienze che loro vivono e attraversano grazie prego la proposta dell'azione cattolica forse non è mai cambiata direi che mi associo molto ad Irene perché è quella di formare dei cristiani dei laici dei cittadini sostanzialmente niente di più questo è un po' l'obiettivo il modo il metodo passa appunto attraverso un'esperienza un'esperienza associativa per cui appunto sei insieme a qualcun altro e l'esperienza alla luce dell'esperienza vai a leggere appunto il Vangelo l'annuncio che c'è dentro a quello che stai vivendo qual è la cosa che cambia la cosa che cambia è chi ti aiuta a fare questo passaggio di lettura dei segni di ciò che vivi perché adesso mi viene in mente una canzone di Niccolò Fabi milioni milioni di sogni milioni di segni perché dice mio figlio dovrà leggere milioni di sogni milioni di segni ma chi mi aiuterà a leggere tutta sta roba io che sono bombardato di cose che mi accadono e infatti torno a quell'inizio noi dicevamo appunto che quei giovani radunati per fare l'iscrizione dei campi sono davvero il punto centrale della formazione dell'azione cattolica perché perché attraverso di loro verrà data una proposta ma loro sono l'obiettivo sono le persone a cui fornire supporto a cui dare indicazioni a cui cioè con cui dialogare con cui sentire appunto qual è il loro punto nella formazione cristiana a che punto sono dove sono cioè capire come rialfabetizzarci anche alla fede perché noi siamo molto alfabetizzati ma i giovani di oggi non per forza e quindi tutto questo ripensare costante quante volte ci siamo dovuti ripensare i modi per fare quest'operazione qui cioè passare dall'esperienza da ciò che vivi alla lettura dei segni che dentro questa esperienza ti portano dentro la vita cristiana che appunto non può essere solo vita di fede intesa come un pezzettino ma vita di laico cittadino dimensione di uomo tu giovane ti penso dimensione di uomo e questo chiede tanto lavoro agli adulti bene gli adulti siete voi che ascoltate quindi no bene grazie perché sicuramente chi vi ha ascoltato torna a casa avendo molto ben chiaro cosa fate perché lo fate e penso anche con una certa dose di gratitudine ma io di domande ve ne ho fatte tante penso che le mie domande le abbiamo ascoltate anche tante però c'è modo abbiamo una piccola finestra per chi volesse di fare qualche domanda e quindi eventualmente chi avesse una domanda che gli sta proprio qui è il momento di proporla il microfono da qualche parte c'è è là quindi se qualcuna domanda è migliore delle mie sono molto ben accolte accette se non mi tocca farne un'altra quindi fate una domanda qualunque domanda hanno risposto quasi a tutto ma credo che qualcosa hanno stuzzicato forse il nostro giornalista come mai la stampa lei l'ha detto fra le righe anzi tu l'hai detto fra le righe che la stampa mette in evidenza solo le cose negative dei ragazzi ma questo secondo me è un grosso problema cioè crea un grosso problema lo rinforza e quindi chiedo quali sono le possibilità di avere più visibilità per le cose belle che fanno i ragazzi io sono francamente convinta della generosità dei ragazzi delle loro buone intenzioni però vanno anche sostenute secondo me vorrei un parere da voi da voi tutti ecco grazie rispondete prima voi no io non mi immagino il titolo ragazzo quattordicenne aiuta boh a dare un panino al barbone cioè non fa notizia dal lato perché secondo me siamo portati naturalmente ma questo lo scopriamo sempre a guardare cosa non va io lo vedo nelle mie dinamiche e secondo me attrae di più cioè costruire è molto più silenzioso piuttosto che distruggere e sono d'accordo che avvelena sono d'accordo perché perché contribuisce a quel clima per cui ti fa pensare che loro hanno una una pietra sopra sono sbagliati il potere che c'è sopra che vuole farlo non so quale sia però l'arma che ci abbiamo è tirare su uomini che giudichino anche questo che si chiedono perché tante volte i giornali danno notizia solo nei casi estremi io non ho grandi soluzioni rispetto a questa cosa per quanto in realtà mi trovo molto d'accordo con quello che dice lei nel senso che tante volte mi sento dire fate tante cose belle perché non si sanno e io forse ho anche un po' la presunzione che invece queste cose si sappiano siano conosciute e probabilmente invece non è così nel senso che stando dentro un'associazione facendo educazione da tanti anni siamo forse portati a stare noi dentro una bolla per cui tutto sommato forse come questo viene vissuto realmente dall'esterno ecco una cosa per esempio che a me ha molto colpito è stato che durante la pandemia con me a Gesci abbiamo fatto tantissimo tantissimo servizio e tantissime azioni di volontariato in coordinamento con la protezione civile ma anche in maniera molto spontanea e questo ha avuto una risonanza molto grande tanto che alcuni ragazzi tra cui una ragazza di uno dei nostri gruppi è stata nominata dal Presidente della Repubblica al Fiere della Repubblica e la cosa che mi ha molto fatto sorridere è che quando lei ha avuto questa comunicazione aveva la sensazione di non avere fatto niente di straordinario cioè lei diceva ma come io ho fatto servizio insieme agli altri ragazzi del mio gruppo perché ecco e quindi anche proprio rispetto a quello che noi percepiamo rispetto a quanto facciamo a quanto i nostri ragazzi fanno è sicuramente un punto molto interessante non aggiungo niente perché penso che assolutamente siamo in linea con con le idee espresse aggiungo un pezzettino personale prima dicevo siamo tutti nella centrifuga lo dico per davvero a me mi sembra di stare dentro una centrifuga in cui si comincia la giornata non sai bene a che ora finisci poi dopo c'è ancora nella centrifuga a quali notizie che notizie ascolto quelle appunto un po' del telegiornale eccetera sono molto grata a Don Stefano che ci ha chiesto stasera di venire non tanto per quello che abbiamo raccontato ma anche per averlo avuto una sera a cena e ci ha portato le buone notizie quelle vere ci ha riraccontato ci ha riconnessi fuori dalla centrifuga alle tante cose che stanno succedendo in azione cattolica perché noi siamo due associati normali abbiamo avuto degli incarichi ma non siamo altro che due associati e dentro la centrifuga ci mancano alle volte le connessioni con le buone notizie quindi alle volte si tratta proprio anche di fermarsi un po' dalla centrifuga e andare a rileggere le buone notizie ci sono però forse alle volte mi metto un po' dall'altra parte io non le cerco oppure insomma dico che non ho tempo per cercarle ecco mettiamo così ti posso aggiungere visto che la domanda era fatta a me ma per fortuna hanno risposto loro perfino i greci si lamentavano dei loro giovani cioè ed è arrivato a noi qualcosa di scritto che dice ah ma questi giovani greci con i capelli lunghi che non stanno nella polisi non si comportano bene cioè questo è un fenomeno che fa parte dell'uomo i giovani hanno una funzione dirompente e per crescere devono averla cioè nel momento in cui crescono devono anche avere una funzione positiva una delle cose che avrei voluto chiedere agli ospiti era anche che loro non hanno mai citato non hanno mai parlato di quelle forme un po' invece più dirompenti che invece per esempio è più facile leggere no queste azioni di protesta forse spesso un po' eclatanti di cui si sente parlare che però è una ragazzina quella che ha creato il più vasto movimento di difesa del clima e lo ha fatto in una maniera abbastanza dritta e mobilita un sacco di giovani non è mica facile portare i giovani in piazza non è così scontato allora per dire che c'è una fase c'è una funzione in cui qualcosa di loro viene fuori poi certo si deve decidere come raccontarla perché c'è anche una funzione come si diceva non siamo solo nella centrifuga ma proprio il modo di funzionamento del nostro cervello che è più curioso di vedere come vanno a finire certe storie cioè noi abbiamo per esempio bisogno di una certa dose di rassicurazione dobbiamo sapere che se qualcuno tira sassi contro un treno cosa gli succede perché se no nella nostra testa ma è una cosa un po' inconscia siamo curiosi di queste cose però è vero anche il contrario cioè sono vere due cose la prima la prima è che io non so in quanto in questa sala conosce solo la storia della ragazza che potrebbe essere di qualunque associazione nominata al fiere è una bellissima notizia positiva e ce ne sono tante come tutte le notizie bisogna un po' cercarsene cioè noi siamo nella centrifuga ma non solo si diceva prima siamo bombardati cioè uno dei problemi che c'è oggi nel mondo della comunicazione è che si sceglie meno che cosa leggere ti arriva tutto comodamente appoggiato sul tuo visore aperto parentesi nessuno legge più chiusa parentesi se no i giornali non sarebbero in crisi e se i giornali sono in crisi è chiaro che devono puntare su cose che fanno un po' di audience e quindi è più facile parlare però in realtà neanche tanto perché dell'alfiere si è parlato tantissimo ma ce ne sono tante di storie come queste però è vero immaginatevi questo ogni weekend non so quanti ma io posso credere che almeno una cinquantina di ragazzi a settimana degli scout vadano in uscita per due giorni nei boschi dormendo in tenda accendendo fuochi quante volte cioè capita una due volte l'anno o si sono persi è divertentissimo è divertente scrivere che gli scout si sono persi lo leggiamo tutti perché è divertente questi sono andati con i pantaloncini corti a 3000 metri sì è vero però ci sono andati ecco poi sta nella scelta di chi decide cioè io per prassi ma qui mi scuso ma io di minori non scrivo cioè se una ragazzina viene presa dai carabinieri che ha rubato in un negozio di moda un paio di ciabatte secondo me non è una notizia e non la scrivo non si scrive che non si deve usare e non si deve scrivere che ci sono le baby gang è un termine che però questo è una funzione un po' più generale cioè attiene al meccanismo di comunicazione generale perché è chiaro che io come faccio a sapere che hanno arrestato cinque ragazzini qualcuno me lo dice perché sì io sono posso essere molto bravo ma qualcuno me lo deve dire chi è che decide di dire queste cose cioè ed è chiaro che se e poi io devo decidere se è importante che qualcuno lo sappia e nella maggior parte dei casi secondo me no però è chiaro che non tutto funziona così perché come per qualunque altra cosa come dire anche i prodotti di comunicazione sono prodotti cioè quindi vanno venduti quindi fanno leva su alcuni meccanismi per cui se però uno supera la prima pagina dove normalmente ci sono le cose che possono invogliarci a prenderlo ecco diciamo così sfogliando le cerca le cose la prima cosa la prima risposta è quindi come si diceva cercatele perché ci sono cercatele e diffondetele la seconda è non cadiamo nel facile tranello perché come dire se penso a dei ragazzi giovani nello spogliatoio di sicuro non parlano di finanziaria ma parlano di sport se penso a un locale come può essere un parrucchiere non credo che ci si trovi Milano finanza ma ci si trovano notizie che parlano di altri bisogna cercarle le cose e quelle si trovano e ci sono un sacco di casi in cui di buona notizia si parla bisogna un po' andare a tentoni ma e lottare per questo fondamentalmente domanda c'è un'altra domanda sono si senta si senta pronto? si si è che io forse non sento sono curioso di sapere se c'è una relazione con le vostre associazioni e le famiglie dei ragazzi che voi avete le vostre associazioni sono delle agenzie educative come lo è la scuola come lo sono indirettamente anche la televisione e i giornali però voi avete un rapporto vis-a-vis e quindi vorrei sapere se ci sono dei progetti diversi delle volte o siete sostitutivi rispetto al progetto delle famiglie perché non c'è e come vi regolate insomma se c'è un dialogo se c'è un modo perché potete superare delle incomprensioni anche con le famiglie allora per quel che riguarda Geshi sì nel senso che appunto l'idea è quella di fare educazione considerando una globalità del ragazzo e della ragazza quindi anche la scuola che fa la famiglia che ha e gli interessi eccetera e quindi noi facciamo sempre in modo innanzitutto che i genitori sappiano annualmente quali sono i nostri obiettivi educativi sui ragazzi sia a livello più globale sia chiaramente si parla insieme in occasioni non formali ovviamente però di quelli che possono essere i progressi che i ragazzi fanno ci sono dei momenti in cui i genitori e le famiglie sono chiamati a partecipare alla vita e alle attività che noi proponiamo che sono pochi momenti perché comunque il protagonismo del ragazzo per noi è qualcosa di essenziale però quello che la nostra associazione ci dice rispetto al nostro fare educazione è che i capi devono avere comunque un confronto e un dialogo sempre attivo con le famiglie soprattutto penso ai casi di ragazzi magari un po' più fragili per esempio ragazzi o ragazze con disabilità ma anche magari che semplicemente stanno attraversando dei periodi particolari quindi per quel che riguarda noi sì assolutamente due cose una che una cosa bellissima è vedere i genitori che di fronte a un figlio cambiato cambiano questo è una cioè come dire che il cuore della proposta ai ragazzi in realtà in maniera indiretta colpisce anche indiretta implicita e non non voluta però tante tante volte ti ho inventato tante storie la seconda cosa è che no la seconda cosa è che io da docente lo vedo e cioè i genitori il dialogo con i genitori è una ricchezza è sempre una ricchezza una ricchezza perché il soggetto educante come dice lei prima diceva un villaggio no l'idea il papa ha detto ci vuole per educare un bambino ci vuole un villaggio quindi magari non esplicitamente lo facciamo però quando c'è bisogno si dialoga dopo i ragazzi secondo me hanno bisogno anche anche per esperienza personale di un posto dove non ci siano ma bisogno non è che bisogno è una fase ed è giusto così no non ci siano ma non ci siano perché perché c'è un momento l'adolescenza in particolare in cui il genitore chi ha i figli lo sa che hanno passato quella fase lì non sono sufficienti alla domanda che hanno non rispondono più alla domanda che hanno e forse accompagnare anche i genitori nel guardare i figli che crescono penso sia una cosa interessante di cui hanno bisogno di cosa il genitore provo a non dire vedo ciò che dire delle cose corrette secondo me a Bologna no cioè la storia cattolica a Bologna ha una ha una presenza diocesana molto importante il target nell'ambito giovanile è il giovane che è già abbastanza grande per fare senza diciamo l'ausilio del genitore e quando invece il destinatario della proposta è un ragazzo magari delle superiori delle medie più piccoletto e dove evidentemente l'aspetto dei genitori è ancora importante l'azione cattolica parla con il suo educatore quindi mi verrebbe da dire a Bologna no ma in generale nel resto d'Italia è molto più marcata la presenza dell'azione cattolica in parrocchia e allora lì evidentemente il rapporto con le famiglie credo che che si instauri mi verrebbe da dire da rispondere così mi viene da dire che ci sono tante famiglie che che supportano l'azione cattolica c'è un sistema familiare spesso dietro ai ragazzi questo è talmente calato anche appunto nelle realtà parrocchiali che anche lì è molto difficile da dire può essere tutto e niente ogni realtà parrocchiale dialoga diversamente sono piccole comunità quelle diciamo dell'azione cattolica che si perdono un po' dentro la realtà parrocchiale quindi è difficile è difficile a dirsi è chiaro che le famiglie non sono dimenticate però è anche vero che sì per la proposta proprio ai giovani non sono l'interlocutore principale poi ci sono evidentemente sono coinvolti grazie bene grazie allora questo incontro vedo Luigi vuole concludere dategli un microfono ringraziando tutti abbiamo un po' sforato ma valeva la pena io spero uno degli intenti di questa serata era proprio di avervi tutti insieme e di vedervi dialogare fra di voi ecco spero che questo sia una cosa che continua nel tempo sarebbe già un bel risultato grazie grazie